Con la Pasqua e la stagione primaverile ormai alle porte, la situazione neve in quota e sulle piste da scide diversi impianti dell'Appenino Abruzzese è in fausta. Con un inverno mai del tutto arrivato, lo zero termico costantemente o quasi al di sopra dei 2500 metri, al momento l'unico impianto con tutte le piste aperte è quello di Campo Imperatore, 11 su 11. Ieri c'era stato infatti l'annuncio della chiusura degli impianti di Roccaraso che, seppur attrezzati con i cosiddetti cannoni per l'innevamento artificiale, non riusciranno ad arrivare ad ospitare il turismo scistico della Pasqua, complice delle temperature davvero troppo alte. Al momento infatti le piste sono tutte chiuse e non va molto meglio alle stazioni di Ovindoli, dove ad oggi le piste aperte sono solo 2 su 21, la Panoramica e Capanna-Brin ed a Campo Felice che di aperto ha solo 3 piste su 15 con Brecciara, la Campo Felice e la Seggiovia-Cisterna. Una situazione davvero difficile sia per gli operatori della montagna che quest'anno hanno faticato non poco per cercare di recuperare una delle stagioni orribili degli ultimi anni, sia per tutto quell'indotto che ha risentito enormemente della carenza di neve. Carenza di neve che, non dimentichiamo, si tradurrà inevitabilmente in una carenza d'acqua non ancora ben stimata per i mesi estivi, soprattutto per i territori che già in condizioni normali, con un inverno degno di chiamarsi con questo nome, vivono nella costante emergenza acqua complice un sistema di condutture che per la sua inadeguatezza disperde qualcosa come il 55,6% di quanto è immesso.